Oggi, prima dell'autoguarigione, prima della meditazione, ci sono tre argomenti che mi sono venuti in mente e che volevo condividere. Perciò cominciamo dal primo, poi vediamo fin dove riusciamo ad arrivare col tempo che ci permette, cosa il tempo ci permette di fare. Il primo argomento, il primo punto di riflessione che volevo condividere oggi riguarda quello che nel buddismo viene chiamato il lignaggio. Il concetto di lignaggio è il concetto che non si può imparare, fare, o meglio, più che imparare, si può anche imparare, non si può ottenere delle realizzazioni, i risultati, aspettati da una pratica di meditazione, anche da uno studio filosofico, se insieme con la parte teorica non esiste anche una trasmissione diretta di esperienza. Quindi, quello che si dice, che si crede moltissimo, e io personalmente ci credo molto in questo, che una parte impariamo tramite le parole, ossia c'è un aspetto tecnico che è anche importante, io sono sempre stato uno che mi piace studiare, mi piace la filosofia, tutto questo, e di questa parte è importante, la parte dove si vanno a imparare le definizioni, le classificazioni, come questo, quell'altro, in un modo, in un altro. Il modo tibetano di studiare, il buddismo tibetano è estremamente accademico in questo modo, in realtà. Per ogni cosa c'è la definizione, la classificazione, tutti i, come si dice, come si può dire in italiano, le varie divisioni che avvengono, quindi quando tu prendi un libro i capitoli sono divisi e suddivisi, è tutto molto ben strutturato, estremamente strutturato in questo senso. Ed è questa una cosa importante, ossia la conoscenza è importante. Però non basta. Unicamente la conoscenza, senza che questa conoscenza venga trasmessa insieme con una condivisione dell'esperienza diretta, di qualcuno che ha imparato, ha messo in pratica e allo stesso tempo ha avuto un'esperienza personale, è vuoto. Sono solo parole, sono solo concetti. Perciò, questo nella nostra vita lo vediamo già, no? Quando qualcuno ci dà un consiglio, o ci dice qualcosa, se questa persona lo dice solo perché tecnicamente crede in quello, o se quella persona mette in pratica ciò che sta dicendo, è un esempio di ciò che dice, cambia molto, no? Una delle ragioni di questo è che quando noi ci comunichiamo uno con gli altri, la comunicazione non avviene unicamente tramite le parole. Esiste anche la nostra presenza, esiste l'energia che noi stessi mettiamo, esiste l'intenzione che andiamo a imporre, tutto questo è importante. E in questo, quando si parla di un lignaggio, vuol dire che, a partire da Buddha Shakyamuni, Buddha ha sempre dato importanza alla trasmissione di quello che viene chiamato il lignaggio orale, ossia la trasmissione, o lunghi chokor, ossia il giro della ruota del dharma orale, che è la trasmissione della spiegazione, ossia le quattro nobili verità sono sempre quattro, non è che sono passati i secoli, prima erano tre, poi sono diventate quattro, piuttosto che no, sono le quattro nobili verità, vengono spiegate con le stesse parole, quindi esiste una coerenza nel modo di spiegare, nel modo di fare. Poi, allo stesso tempo però, Buddha stesso non ha mai voluto lasciare nulla scritto. Perché Buddha non ha mai lasciato nulla scritto? Non sapeva scrivere? Non credo proprio, all'epoca di Buddha già si scriveva, in India era normale, c'erano i Veda che sono molto più vecchi di Buddha. Non sapeva scrivere? Non credo, Buddha era un principe, ha avuto la migliore dell'educazione, e anche se diciamo che qualcuno potrebbe dire, ah non sapeva scrivere, trovare qualcuno che scriveva per lui non è che era così difficile. Quindi c'è stata una volontà nel non lasciare le cose scritte. Io ho già riflettuto tanto su questo, è un po' una parte della conclusione che sono arrivato, è che Buddha ha sempre dato nei testi che noi abbiamo oggi, che sono in realtà le trascrizioni dei discepoli di Buddha, che loro dopo, tutti i sutra di Buddha cominciano dicendo, un giorno così udì. Mi trovavo in questo luogo dove Buddha era insieme con questi discepoli, e questo discepolo fece questa domanda, e Buddha rispose così, così, così. Così sono i sutra di Buddha, no? Sono tutte le trascrizioni. E nei vari insegnamenti, quello che si dice che Buddha diceva, era che ha sempre dato importanza alla trasmissione diretta tra maestro e discepolo, e ha sempre dato importanza nella necessità di avere un rapporto umano, e non solo un rapporto accademico con un libro, per dire. Perché Buddha ha sempre detto, è compito del maestro adattare gli insegnamenti alla mentalità e alla capacità dei discepoli. Quindi io posso solo adattare una volta che io capisco. Io posso solo adattare quando ho un'esperienza personale. Perché nei secoli la mentalità cambia. Le parole cambiano di significato, cambiano di valore. Perciò è naturale che nel tempo si devano adattare il modo di trasmettere. E per questo addirittura ci sono dei testi, c'è un testo che viene chiamato il Tantra Radice di Guia Samaggia, che è uno dei testi per il quale la propria pratica dell'autoguerigione fa riferimento. In realtà, come il testo Radice, che è un sutra, potremmo chiamare per semplificare, trascritto dagli insegnamenti diretti di Buddha, il modo come viene fatto questo testo, è uno dei testi più sacri nella tradizione del buddismo tibetano, in particolar modo nel sentiero Vajrayana, è difficilissimo da capire. Io l'ho già letto, si capisce niente. O meglio, si capisce, ma non si riesce a capire niente, non si riesce a mettere le cose insieme. Poi vai a leggere i commentari, da grandi maestri come è stato Nagarjuna ed altri, dopo, e loro cosa hanno fatto? Prendono questo testo che è fatto, non mi ricordo adesso, sono sei o dieci capitoli, quattro sono in capitoli, non mi ricordo bene, e il testo che è fatto in versi viene tutto rimischiato. Quindi si parte dal capitolo, adesso non mi ricordo bene, ma diciamo che si parte dal capitolo 2 verso 5, poi salti al capitolo 8 verso 50, poi torni al capitolo 1 verso 2. è tutto fatto così, tutto mischiato, ed è stato messo nell'ordine sbagliata, appositamente, per fare in modo che le persone avessero bisogno di un maestro che avesse l'esperienza e la conoscenza per trasmettere. In modo che non fosse qualcosa che bastasse solo leggere e dire ok, mi basta così. Perché? Perché le parole dicono poco. Le parole sono molto limitate, in particolar modo quando si trasmette qualcosa che parla delle esperienze interiore molto profondi, quindi è qualcosa che in realtà le parole dicono poco. Perciò si è sempre data l'importanza all'esperienza diretta, all'esperienza e al contatto umano, in questo senso. Qualche tempo fa dei giornalisti mi hanno fatto un'intervista in Brasile e mi hanno fatto riflettere su un punto, perché chiedevano cosa pensi delle nuove tecnologie che sia tramite l'internet, eccetera, per trasmettere gli insegnamenti, credi che sia qualcosa che possa aiutare dal punto di vista spirituale, eccetera, eccetera. E alla fine, il punto principale è che qualunque metodo usiamo oggi, che sia il video, che sia l'audio, che sia il testo, che siano le immagini, applicativi, puoi far quel che vuoi, tutto questo non fa altro che il ruolo del libro, che di trasmettere conoscenza. Però nel nostro sentiero spirituale non ci basta questo. Abbiamo bisogno di aver fiducia ed essere, come si dice in italiano, fidati. Abbiamo bisogno di amare ed essere amati. Abbiamo bisogno di un esempio, abbiamo bisogno di amicizia, abbiamo bisogno di un contatto umano che a sua volta ci porta più profondamente in questo percorso. E questo per noi viene chiamato l'ignaggio. È il fatto che io ricevo gli insegnamenti da mio maestro, ma non è solo dal punto di vista teorico. Anche in generale nei monasteri si fa un po' una distinzione tra quelli che sono gli insegnanti e i maestri. Io posso avere un insegnante che è colui che mi trasmette un aspetto più teorico, e cioè i miei maestri che è qualcuno con cui io prendo rifugio, qualcuno che mi trasmette una conoscenza più profonda di cui si stabilisce un rapporto di amore, di fiducia. che è molto importante, è essenziale nel nostro percorso questo. Perché il nostro percorso, perché il percorso spirituale non è un percorso di conoscenza, la conoscenza fa parte, ma è un percorso di sviluppo delle nostre proprie qualità interiori. E una delle belle cose che c'è di questo cosiddetto lignaggio che è qualcosa che noi andiamo a sperimentare a un livello non concettuale, che va al di là delle parole. quindi al momento in cui per esempio io ricevo insegnamenti da un mio maestro in un modo sincero, puro, a sua volta c'è un'altra persona che ha ricevuto insegnamenti da un'altra parte del mondo da un altro maestro, ma che però tutti i due maestri erano discepoli dello stesso, quindi sono fratelli spiritualmente. Noi quando ci incontriamo esiste una sensazione di essere di una stessa famiglia, di una familiarità, di un'amicizia che è qualcosa di molto bello. Proprio io ho avuto più volte questa esperienza, ci sono altre persone che conosco che hanno avuto più volte questa esperienza di andare che ne so, in mezzo al Tibet essere con delle persone che non hai mai visto, non parli la lingua, però quando ti incontri capisce che fai parte di una stessa famiglia spirituale, magari il tuo cugino lontano per dire, e quello dà una grande gioia, dà un sentimento di fiducia, di amore anche. E comunque il punto che volevo riportare è che questa fiducia, questo sentimento profondo che è quasi un po' una magia, è qualcosa che non c'è un percorso specifico tecnico per farlo nascere, è qualcosa che dipende, ci vuole tempo certe volte, altre volte viene in un modo molto spontaneo, ma è qualcosa che va coltivato ed è molto molto prezioso. Oggi mi è venuto di parlare un po' di questo perché abbiamo avuto stamattina un lama che è venuto dal Tibet che ha fatto un breve viaggio tra stato prima in India poi è andato in Nepal poi è stato in Francia Svizzera Italia domani torno in Tibet e c'è stata una situazione molto bella in realtà io l'avevo visto una volta in Tibet con la Maganchen però da che cosa proviene questa amicizia profonda? Lui è discepolo di un grande maestro che era discepolo dello stesso maestro della Maganchen quindi esiste un sentimento profondo che viene fuori è una cosa che tante persone riescono a sentire però il punto principale che volevo condividere è che nel nostro percorso è importante ricordarsi di questo aspetto di avere l'esempio di avere un contatto umano di avere fiducia questo aspetto è molto importante una delle cose che io vedo oggi che mi manca un po' certe volte per esempio nell'occidente si sta sviluppando moltissimo l'aspetto della meditazione che è una cosa meravigliosa sempre di più ci sono ricerche scientifiche sulla meditazione viene applicato da medici nelle scuole noi stessi in Brasile con la fondazione della Maganchen in Brasile facciamo un bellissimo lavoro di portare la meditazione nelle scuole per esempio è una cosa che funziona molto bene molto bella però quello che un pochettino io vedo che sta un po' avvenendo è che esiste una tendenza a prendere l'aspetto tecnico che viene trasmesso della meditazione a secoli e lasciare tutto il resto per dire la meditazione è ottima tecnica di consapevolezza prende l'aspetto tecnico e si toglie l'aspetto del rapporto umano tra maestro e discepolo l'aspetto della spiritualità diciamo viene tolta la spiritualità e viene usata solo la tecnica e c'è una una delle discepoli lì in Brasile che frequenta il centro come voi qui e lei da qua da tanti anni fa meditazione e così via un giorno una delle cose che lei dà anche lezioni di meditazione in diversi tipi di contesti e qualcuno un giorno venne da lei e disse guarda io ho questa grande azienda nella quale vogliamo portare la meditazione all'interno dell'azienda eccetera eccetera però ho bisogno di qualcuno che venga a insegnare la meditazione che riesca a toccare il cuore delle persone a cambiarle la vita e lei disse questo vuol dire un maestro qualcuno che abbia queste capacità non è qualcosa che si trova così in ogni angolo non è una cosa che noi possiamo insegnare la tecnica spesso però questo è qualcosa che riguarda la spiritualità è una cosa più profonda di cui parlare quello che tu mi chiedi diceva lei con ragione quindi una delle cose che io ho visto che dallo stesso momento che è meraviglioso tutto questo sviluppo che c'è della meditazione certe volte ho la sensazione come se si lasciasse da parte un po' la parte spirituale il contatto umano che c'è tra maestro e discepolo e si desse un'importanza molto più grande alla tecnica unicamente quindi noi abbiamo questo aspetto del lignaggio io stesso ho visto ci sono dei testi per esempio che ho letto che volevo imparare dei argomenti delle tecniche di meditazione e ho letto eccetera però non è che riuscivo ad approfondirmi veramente poi quando ho ricevuto la trasmissione da un maestro qualificato certe volte non mi ha spiegato niente di più tecnicamente di quello che già sapevo però al momento in cui ho avuto l'esperienza la trasmissione diretta è come se si apre una porta nel cuore nella mente e da quel momento in poi le cose diventano più chiare e da quello si riesce naturalmente a comprendere meglio a metterlo in pratica c'è un gusto diverso quindi questo è qualcosa che per questo che anche noi vediamo qua tra tutti i dipinti tanti dei dipinti rappresentano chi? i maestri del lignaggio se noi abbiamo questi che sono dietro di me partiamo da Buddha Shakyamuni che è il fondatore che è dove c'è il nostro lignaggio perché poi qua ci sono tante altre non ci starebbero neanche in una struttura di qualche migliaia di metri quadri se dipingere tutti però Buddha Shakyamuni poi dall'altra parte di là c'è Atisha che è colui che ha portato il buddismo in Tibet la seconda volta da cui viene Anomile più o meno da cui proviene il nostro lignaggio poi dopo c'è Lama Tsongkapa che a sua volta è colui che ha messo chiarezza negli insegnamenti che c'era un po' di confusione quel periodo in Tibet e quindi che ha fondato la tradizione che noi seguiamo oggi che viene chiamata la tradizione della virtù o la tradizione della gioia e poi abbiamo di là in angolo c'è Trichan Rinpoche che è il maestro radice di Lama Ganci anche maestro di Sossantità del Dalai Lama poi di qua in questa colonna per esempio c'è il Pancelamo un altro degli altri maestri di Lama Ganci verso questo lato di qua della colonna c'è Papon Karimpoche maestro di Trichan Rinpoche nel lato di là c'è Demo Gonza Rinpoche che è uno dei grandi maestri che ha vissuto negli ultimi tempi e ha morto qualche anno fa è stato un maestro molto molto importante in Tibet particolarmente anche uno dei maestri di Lama Ganci e dall'altra parte di là della colonna c'è Penchenlos Ancioghi Galzen il quarto Pancelama che è uno dei maestri più importanti che ha vissuto negli ultimi secoli che ha scritto i testi più importanti per noi eccetera fuori questo se andiamo a vedere in alto ci sono tante altre immagini di altri maestri adesso non stiamo a raccontare uno per uno però ognuno è un po' come la storia da dove proviene quello che abbiamo qui quindi è come se solo per concludere questo primo punto l'importanza del lignaggio una volta c'era un Lama che era in Tibet che stava dando un insegnamento riguardo questo e fece un esempio moderno ma che mi è piaciuto molto io l'ho elaborato un po' di più l'esempio è questo possiamo prendere e fare un bellissimo impianto di illuminazione nella nostra casa mettiamo le lampade più belle facciamo tutto bene bene tutti i cavi messi bene le connessioni perfette facciamo tutto benissimo per avere una stanza bella luminosa piacevole tutto perfetto però tra noi e la centrale elettrica un traliccio cade c'è luce? no questo è quello che succede quando io posso imparare tutta la tecnica posso essere intelligente posso preparare tutto però se non c'è un lignaggio se da qualche parte si rompe è come se io non ho nulla da ricevere invece se il traliccio rimane su a quel punto io posso fa qualche sia posso ricevere posso svilupparlo e questo è un aspetto importante di cui dobbiamo rigiuire e mantenere anche perché affinché un lignaggio si rompa basta che una persona non riesca a trasmettere a nessun altro i suoi insegnamenti da quello quindi abbiamo questa fortuna di avere un lignaggio in interrotto quindi quello che insegniamo qui io per esempio non vado mai a insegnare qualcosa che a sua mia volta non ho ricevuto dal mio maestro mai vado a prendere per esempio ci sono stati dei testi degli insegnamenti che volevo trasmettere ma che non avevo mai avuto la trasmissione io stesso non ho mai insegnato prima di aver ricevuto la trasmissione perché questa è una cosa per me molto importante e questo era il primo punto che volevo un po' condividere con voi con questo il secondo punto è un argomento abbastanza lungo però vado direttamente all'essenza che è un argomento che quest'ultima volta in Brasile ho affrontato abbastanza lungo una sera volevo prendere qualche spunto che è importante che riguarda come amare gli altri come aprire il proprio cuore agli altri sapendo rispettare i propri limiti perché noi abbiamo dei limiti e quando noi non conosciamo i nostri propri limiti e cerchiamo di forzarci al di là dei nostri limiti entriamo in conflitto con noi stessi e con gli altri soffriamo inevitabilmente perciò quello che accade è che è importante aprire i nostri cuori agli altri questo è essenziale ma proprio parte dal mio punto di vista dei pilastri fondamentali per ottenere una vita di felicità e di gioia perché se c'è qualcosa che ci genera sofferenza tristezza rancore sofferenza in generale proprio è la chiusura del cuore è il fatto di non riuscire a vedere l'altro di non riuscire a desiderare la felicità dell'altro di chiudersi all'altro e per l'altro intendo dire chiunque altro questo è qualcosa che per noi stessi quindi egoisticamente parlando è meglio essere altruisti quindi anche parlando per noi stessi chiudere i nostri cuori è qualcosa che ci genera tanto dolore invece saper aprire il cuore nel modo giusto porta tanta gioia aprire il nostro cuore senza saper rispettare i nostri limiti può generare sofferenza o meglio genera sofferenza ok quindi quali sono i nostri limiti prima di tutto prima di vedere questo che cosa vuol dire amare che cosa intendo dire aprire il cuore agli altri amare vuol dire desiderare la felicità dell'altro io ti amo io desidero che tu sia felice indipendentemente di dove come con chi io semplicemente desidero profondamente che tu sia felice io ti amo quando noi diciamo io ti amo non posso vivere senza di te vuol dire io ti desidero perciò non posso vivere senza di te desiderare vuol dire io ho bisogno della tua presenza della tua attenzione del tuo desiderio ho bisogno di te per la mia felicità per finché io sia felice questo vuol dire io ti desidero io voglio che tu sia felice vuol dire io ti amo spesso mischiamo le due cose ok è importante saper fare la distinzione tra l'uno e l'altra la lingua tibetana è molto chiaro quando si dice una persona io nel rapporto che c'è di coppia è molto più normale dire io ti desidero che io ti amo si dice io ti desidero ok chiaro io ti amo anche chiaro a questo punto nella nostra cultura se io vengo da qualcuno e dico io ti amo aspetta cosa vuoi da me cosa sarà com'è come non è dipende un po' uno si pone un po' dei dubbi magari chissà come non basta io per me è stato molto chiaro quando entrando in wikipedia ho messo la parola in inglese love e c'erano 67 definizioni diverse no e leggendo questo si vede come ognuno prende quella che vuole in quel momento e poi in realtà stiamo parlando di due cose diverse con la stessa parola ovviamente viene fuori conflitto confusione perciò quando diciamo nel contesto buddista amare amore quando io dico io ti amo io intendo dire io profondamente desidero che tu sia felice questo è qualcosa di importante per me e è un sentimento molto complesso perché perché ognuno di noi innanzitutto ha un'idea completamente diversa di ciò che vuol dire la felicità io ti amo desidero che tu sia felice però il mio concetto di felicità è completamente diverso dal tuo già abbiamo un problema noi non siamo capaci di amare l'altro in un modo diverso di cui innanzitutto amiamo noi stessi io non riesco a desiderare a te una felicità che prima di tutto non riesco a desiderare a me stesso quante volte che non vediamo conflitto tra persone che siano genitori e figli che sia tra coppie eccetera eccetera nella quale dice no ma questo non va bene per te non devi fare così ma l'altro dice ma questo è quello che voglio non può essere quello che vuoi questo non deve essere così c'è un caso particolare che ho vissuto molto pesante in realtà di un padre e un figlio che sono arrivati in situazione addirittura di tentato suicidio abbastanza pesante è arrivato il livello perché uno diceva che amava l'altro e uno diceva che l'altro non lo amava in poche parole faccio un riassunto solo per capire il momento il padre è una persona che per tanti anni ha lavorato molto ed è riuscito ad avere una posizione importante nella società è riuscito a fare tanti soldi diventare molto ricco ottenere potere eccetera eccetera e lui intendeva che essere felice voleva dire essere autosufficiente per lui la felicità si basava sul fatto di lavorare guadagnare i propri soldi essere autosufficiente non dipendere da nessuno questo era il suo concetto uno dei suoi figli intendeva che la felicità era non dover lavorare e divertirsi era un ragazzo che piaceva tanto lo sport la natura eccetera le feste e l'ultima cosa che lui diceva diceva ma se io ho la possibilità economicamente di non dover mai lavorare chi me lo fa fare perché lo devo fare e il padre cosa diceva no perché tu devi essere felici quindi devi lavorare chi non lavora non è felice e il figlio diceva è il contrario no adesso senza entrare nei dettagli della storia però questo era un caso nel quale effettivamente tutti i due avevano un concetto molto diverso di che cosa si doveva fare per essere felice tutti i due sbagliati comunque dal mio punto di vista io c'ho ancora un altro punto di vista però quello che accade alla fine è che entrano in un livello di conflitto profondo ok questo succede perché perché ci sono concetti diversi di felicità se io dico io ti amo perciò voglio che tu sia felice però un concetto di felicità che per me la felicità vuol dire che ne so vedere le partite di calcio io ti amo e dico guarda andiamo in Brasile adesso che c'è il mondiale ti ho prenotato tutto invece per te il concetto di felicità vuol dire essere in un luogo tranquillo senza nessuno in mezzo alla natura addirittura senza elettricità e mi dice no guarda io ho prenotato una baita in montagna non c'è neanche l'elettricità guarda che cosa bella io dico ma tu cosa non mi vuoi bene ci sono i mondiali vuoi portarmi in una baita dove non c'è neanche l'elettricità e l'altro dice no io ti amo tanto proprio per quello guarda che cosa bella questo è un esempio banale qualunque ma quello che io voglio dire è che quando abbiamo concetti di felicità diversi e innanzitutto superficiali perché diventa ancora più difficile quello che accade è che naturalmente vengono fuori dei conflitti ok perciò amare non è così semplice in questo senso io ti amo desidero che tu sia felice ma innanzitutto che cosa vuol dire essere felice che cosa intendo io stesso per felicità perciò il primo limite che abbiamo nell'amare è che noi non possiamo amare l'altro in un modo migliore o diverso di come innanzitutto amiamo noi stessi io non riesco a desiderare una felicità all'altro che prima di tutto non si è riuscito a desiderare a me stesso per questo che nel sentiero spirituale il primo passo è amare se stesse e avere chiarezza di che cosa è la felicità per me desiderare questa felicità per esempio per me la felicità in poche parole vuol dire star bene in armonia con me stesso e con gli altri indipendentemente di dove mi trovo con chi mi trovo in quale situazione mi trovo questo per me e quindi che cosa vuol dire essere libero da gelosia da invidia da attaccamento da rabbia da paura da arroganza eccetera eccetera quindi questo per me è il concetto di felicità io ti amo cosa voglio per te che tu sia che tu sia in uno stato interiore di equilibrio di soddisfazione libero da rabbia gelosia eccetera eccetera quello è quello che ci desidero perché perché innanzitutto lo desidero a me stesso come concetto di felicità ok perciò il primo limite che noi abbiamo noi non siamo capaci di amare l'altro in un modo diverso del quale innanzitutto amiamo noi stessi quindi il modo in cui io ti amo è un riflesso di come io amo me stesso ok e questo nella vita di tutti i giorni porta diverse conseguenze perché rigirando la stessa cosa che ho appena detto è l'altro non mi può amare in un modo diverso di come ama se stesso innanzitutto se una persona non dà importanza per lei stessa di un certo tipo di situazione di cosa come mai potrà desiderare quello per me e darlo importanza per me io stesso mi sono già trovato in situazioni di questo genere io vedo io per esempio ci sono delle cose a cui non do importanza fare un esempio qualunque sono una persona che per carattere mio da quando ero bambino non sono uno che sto lì a raccontare tanto le cose io sono proprio scarso a raccontare le cose per dire ero in India avevo 12 anni non vedevo mia madre da 6 mesi un anno quel che era parlavo con lei al telefono ogni tanto perché a me non sentivo il bisogno di chiamare come oggi non sento il bisogno di chiamare nessuno e quindi ogni tanto per proprio la chiamavo come va tutto bene come va tutto bene e cosa succede no va tutto bene e ancora oggi è così questo è un po' mio carattere personale non dico che sia una cosa buona non è quello sto sendo sincero e quindi che cosa succede nello stesso modo io quando c'è qualcuno che io voglio bene sono tante persone per fortuna mia io non ho bisogno di stare a sentire tutto quello che è accaduto basta certe volte vedersi sentire pensare sapere che l'altro sta bene punto io sono fatto così poi ripeto questo non è non sto dicendo questo come un esempio di come uno debba essere al contrario io sono così poi ci sono tanti modi di essere però partendo da quell'esempio di prima sulla base di questo io mi accorgo che non sentendo io la necessità di ricevere le informazioni che mi raccontino eccetera eccetera agisco nello stesso modo anche nei confronti degli altri e altre persone come mi ricordo mia madre a quell'epoca stava male ok quindi che cosa succede noi quando vediamo che una persona non fa certe cose piuttosto che non agisce in un certo modo nei nostri confronti spesso non è perché non ci ama ma perché non ama se stesso in quel modo lì non vede quello come una necessità come qualcosa che porti gioia o felicità e quindi naturalmente non lo fa neanche all'altro ok poi c'è chi è un pochettino più furbo certe volte dice ok fammi capire come è fatto l'altro quindi cerco di fare uno sforzo e agire in un certo modo eccetera eccetera però in un rapporto più a lungo termine dopo di un po' uno è più naturale come se stesso perciò ricordarsi che io amo l'altro innanzitutto sulla base di come amo me stesso e l'altro ama me sulla base di come ama se stesso anche ok già questo ci toglie un bel po' di problemi di diverse cose un altro punto importante è che amare vuol dire desiderare la felicità non vuol dire dare la felicità io ti amo io desidero profondamente che tu sia felice e farò tutto ciò che posso affinché questo avvenga ma io non posso fare altro che desiderare e fare il mio meglio affinché tu sia felice che tu sia felice o no dipende da me chiunque sia la persona che c'è davanti a me se io la amo profondamente io ho la capacità di farla felice o no di dargli la felicità di togliergli la sofferenza o no ho la capacità o no no non ho non ho questa capacità c'è qualcuno qui che ha mai provato credo di sì no per dire genitori hanno mai provato di fare i propri figli felici figli hanno provato di fare i genitori felici e possiamo mettere a omlungare la lista fidanzati mariti mogli eccetera eccetera di cercare di fare l'altro felice e non riuscire e a un certo punto chiedere a se stesso ma che cosa sto facendo di sbagliato che l'altro non è felice la domanda è un'altra non troverai mai la risposta che cosa stai facendo di sbagliato perché la domanda è sbagliata la domanda è io posso fare l'altro felice o non posso prima di tutto la risposta è no io quello che posso è condividere con l'altro miei sentimenti dire delle parole gentile io posso agire in un certo modo posso regalare delle cose posso insegnare posso dare amore posso fare tante cose belle e sulla base di questo dipenderà dall'altro come saprà vivere questo o no perché poi è normale nella vita di tutti noi abbiamo alti e bassi la vita è fatta di cicli e all'interno di questi cicli sono molto ondolati e hanno cicli all'interno di questi stessi perciò certe volte quando siamo vicini a una persona che sia i nostri figli che sia i nostri genitori che sia il compagno la compagna chi sia ok certe volte ci mettiamo all'aspettativa che l'altro deve sempre essere felice e che se non è felice addirittura ci sentiamo in colpa che cosa sto facendo io di sbagliato perché tu non sei felice l'altro mi dice guarda ti voglio tanto bene però non sei nel centro dell'universo non è che esisti solo te esisto io innanzitutto e ci sono cose magari sono triste non so perché magari perché è successa una cosa di qua magari perché c'è un'altra cosa di là ma il punto più importante è nessuno di noi è capace di togliere la sofferenza dell'altro e di dare effettivamente la felicità all'altro possiamo creare condizioni per aiutare l'altro a uscire della sofferenza e per aiutare l'altro a essere più felice ma non più di quello e poi c'è un altro discorso che è importante da ricordare all'interno dei nostri limiti siamo esseri ignoranti non è che vediamo l'altro e riusciamo a vedere l'altro come lui vede se stesso io cerco di capire una cosa cerco di capire l'altra e cerco di creare perché ti amo cerco di creare le condizioni giuste affinché tu possa essere felice però se tu non vuoi essere felice se tu non sei pronto per essere felice io posso farvi tutto ciò mai accadrà è chiaro questo perciò sulla base di questo che cosa avviene io ti amo farò il meglio però non mi prenderò il peso della tua felicità nello stesso modo che dire tu sei la mia vita la mia felicità tu sei la mia felicità dipende di me la tua felicità anche mettere addosso a un altro la propria felicità è una cosa che è atroce perché è un peso che andiamo a mettere addosso che sostenerlo non è mica facile qualcuno che dice la mia felicità dipende di te io dico aspetta un attimino dove riesco a sostenere questa cosa che non è così facile ma non peraltro io per il quanto diciamo che io ti amo proprio all'infinito però il punto è che non so come sostenerla non posso val di là di quello che è il mio potenziale posso essere può esserci un Buddha un essere perfetto io proietto la mia felicità dico la mia felicità dipende di te il Buddha mi guarda e ci mi dispiace ti amo tanto faccio di tutto quello che posso per te però se mettiamo sulla bilancia si dice negli insegnamenti che se mettiamo sulla bilancia il potere di un Buddha ossia di un essere perfetto con perfetta saggezza con passione potere di guarigione e con tutto mettiamo questo sulla bilancia da una parte dall'altra parte mettiamo il potere delle azioni della persona stessa ossia del karma che vuol dire delle proprie scelte delle proprie azioni eccetera eccetera hanno lo stesso peso un Buddha non può fare di più non può fare nessuno sperimentare qualcosa nessuno di noi può fare l'altro sperimentare qualcosa che l'altro non abbia creato le cause per viverlo non si può e qualcuno chiede perché un Buddha non è frustrato un essere che ha un amore verso tutti immaginiamo che amiamo tutti immagina sarebbe una frustrazione allucinante amare tutti pensando di dover fare tutti felici sarebbe veramente una roba pesante invece quando riesce ad amare l'altro avendo consapevolezza e rispetto fin dove puoi arrivare senza avere un'aspettativa di dover fare di più di quello che puoi effettivamente fare stai bene hai più pazienza più spazio più accettazione perché addirittura quello che succede è io ti amo desidero profondamente che tu sia felice credo che sono io che devo farti felice facci di tutto per farti felice tu non diventi felice che cosa può diventare questo sentimento di amore? avversione perché ti dico ma come? sei così ingrato? dopo tutto quello che ho fatto non sei ancora felice? l'altro mi guarda e dice guarda non c'entra quello che hai fatto mi dispiace e questo non vuol dire che non sono grato di quello che hai fatto però la mia infelicità non dipende da quello dipende dal mio proprio modo dipende dai miei veleni mentali dalle mie proprie menate dipende da me stesso non dipende da te no? ed è per questo che io credo che i rapporti umani in particolar modo in occidente ma non so in occidente anche in oriente ma in occidente un po' di più no? si vive nella non lo so come chiamare in un modo carino vediamo viviamo un po' con la quest'illusione una sorta di una sindrome un'illusione del principe azzurro sia per l'uomo che per la dona che poi poveraci noi cresciamo con Walt Disney non è che può essere il risultato molto diverso però perché come finiscono le favole di Walt Disney? e vissero? felici e contenti per sempre no? perciò il concetto su cui ci basiamo spesso è che è quello però quello che io credo è che queste cose alla nostra infanzia le favole hanno un'importanza nella società enorme è una cosa di cui non si parla di cui noi spesso non ci preoccupiamo questo è un parentesi veloce le favole hanno un'importanza nella società enorme perché la nostra propria visione di mondo noi la formiamo innanzitutto quando siamo bambini e le favole hanno un'influenza sulla nostra visione di mondo enorme le favole d'oggi quando accendi la televisione e vedi i cartoni fanno un po' paura anche ci sono alcune bellissime a me sono sempre piaciuti i cartoni è da un po' che non riesco a guardarli più però ci sono alcune favole bellissime ci sono altre che veramente è una roba che guardi fa venire paura però questo chiudo parentesi ma è il fatto che per chi ha dei figli cercare delle belle favole perché tramite le favole trasmettiamo una visione di mondo le storie che si raccontano un lavoro importantissimo che secondo me si potrebbe fare magari qualcuno che già lo fa ma verrebbe ancora incrementato non lo farò io perché non sono capace non è quello che io so fare ma sarebbe di mettere più importanza tra libri applicativi filmati quel che sia con delle belle favole per i bambini che trasmettono una visione di mondo sana positiva questo sarebbe qualcosa che è molto importante comunque tornando a noi il rapporto di coppia non è né la soluzione né il problema per la felicità cosa è necessario perché una coppia stia veramente bene insieme che tutte le due persone stiano bene con se stesse già qua un po' più difficile no? perciò è normale che vengono fuori dei conflitti ok? perciò il punto che voglio arrivare è che quando noi amiamo qualcuno sinceramente qua spesso nella nostra cultura nei nostri tempi la parola amore ritorna al rapporto di coppie e così via però l'amore va molto al di là di quello c'è l'amore che c'è tra amici l'amore che c'è tra familiari ma in ogni genere io ho avuto un'esperienza che raccontandola così fa un po' ridere anche però fa pensare ad altre cose però a dicembre quando sono stato in Brasile ho avuto stato un giorno in cui ero ero per strada aspettando la macchina di un amico che stava venendo a prendermi e c'era un un cantiere a fianco a me e guardavo ero lì al cantiere guardavo un po' il cantiere c'era un muratore che era lì con il suo casco che mi guardava vestito un po' così normale lui mi guardava io mi sono messo a guardarlo ho cominciato a guardarli negli occhi di solito quando una persona ti sta a guardare e tu la guardi negli occhi la persona cambia direzione di sguardo anche in quel caso no lui rimasi a guardarmi io sono stato lì a guardarli a guardarli sia stato non lo so un minuto due minuti che è un tempo lunghissimo in questo contesto a guardarsi uno all'altro e con un sentimento profondo di amore quindi ho avuto una storia d'amore col muratore che c'è stata lì in mezzo a San Paolo no ed era un sentimento bellissimo senza parole no non sapevo neanche il suo nome se è per quello è stato semplicemente guardarsi uno all'altro vedere sorridere e il sentimento che ho avuto in quel momento è desidero che tu sia felice io mentre lo guardavo ho aperto mio cuore sinceramente poi sarà durato quel che sarà durato un minuto due minuti è arrivato mio amico con la macchina e mi ha lasciato un sentimento di gioia una sensazione di gioia interiore quindi quello che accade è che anche il semplice fatto di guardare l'altra persona di aprire il cuore anche a chi noi non conosciamo in un modo sincero noi stessi sentiamo una grande gioia e diamo anche la stessa gioia all'altro però quello che accade è che i nostri limiti saper rispettare i nostri limiti è molto più importante innanzitutto quando abbiamo un rapporto più ravvicinato nel lavoro nella famiglia nell'amicizia eccetera eccetera e anche per certe persone anche riguardo il mondo in generale perché cosa succede nel momento in cui io credo e spesso non è un processo concettuale ma io dentro di me credo di essere responsabile per la tua felicità in qualche modo se tu soffri e io sto bene come mi sento in colpa perché devo sentirmi in colpa se sto bene addirittura se la mia felicità non fa dipendere non dipende dalla sofferenza di un altro è chiaro se io sto bene e la mia felicità dipende dalla sofferenza di un altro io non sono favorevole al senso di colpa però c'è qualcosa che non va ok ma se io sto bene perché è un momento in cui ho gioia perché ci sono delle cose belle che io sto bene e l'altro sta male perché non riesce a star bene perché ha le sue proprie menate i suoi problemi i suoi cicli tutti noi abbiamo i nostri cicli no? è colpa mia non è colpa mia e io in questo senso non devo sentirmi in colpa se io sto bene devo rigioire che bello che sto bene quindi c'è un'energia più bella che posso anche dare all'altro posso anche dare più aiuto posso dare più supporto ma il fatto di non prendere addosso a noi stessi la responsabilità della felicità dell'altro e di conseguenza anche della non sofferenza non vuol dire che non devo fare nulla per la felicità dell'altro devo fare tutto ciò che posso esattamente tutto ciò che posso fin dove posso senza l'aspettativa che l'altro debba essere felice perché io sto facendo questo quello quello quell'altro è chiaro? quindi questo è uno dei limiti importanti che dobbiamo rispettare perché in realtà se io sono consapevole che io non posso sostenere la tua felicità non posso eliminare la tua sofferenza per il quanto che io lo desideri farò molto farò quello che posso ma non mi prenderò questo peso addosso a me si vive con molto meno senso di colpa con molto meno tristezza e sofferenza anche perché è una cosa molto comune quando una persona comincia a aprire il cuore verso gli altri comincia a sentirsi in colpa per la sofferenza che c'è nel mondo a soffrire per ciò che accade a sentirsi in colpa perché non riesce a fare gli altri felice eccetera eccetera invece voler fare l'altro felice basandosi unicamente sulle proprie risorse non lo so è come voler far sorgere il sole da ovest non si riesce perciò nel momento in cui io rispetto il mio limite io imparo anche a usare le risorse che ho meglio ossia io cosa posso fare verso l'altro interagire posso essere una condizione quindi le parole che dico il modo in cui mi muovo eccetera eccetera hanno un'influenza nell'altro come le altre hanno influenzato di me e sulla base di questo io devo scegliere devo muovermi e anche ricordando un'altra cosa che è un altro limite che noi abbiamo importante importante limite da superare anche però abbiamo questi limiti e lo dobbiamo rispettare siamo esseri ignoranti quante volte che noi diciamo ah ma se io sapessi avrei dovuto dire avrei dovuto fare è chiaro se io sapessi avrei fatto però non sapevo ah ma io ho fatto questa cosa che non è andata bene se io avessi saputo avrei fatto diversamente è chiaro che se avessi saputo avrei fatto diversamente non sono mica un essere macabro che sta lì che vuole fare del male ho la mia ignoranza quindi avere compassione di noi stessi rispettare i nostri propri limiti dire ok io ti amo però rispetto fin dove arriva anche la mia propria capacità di comprensione di azione e tutto il resto facendo il mio meglio per migliorare per crescere per svilupparmi sempre però non incolparmi del non aver sviluppato delle qualità che in questo momento non ho non incolparmi di avere certi limiti che sono quelli che ho quindi questo è una cosa abbastanza normale se noi dobbiamo stare a incolparci ma se io avessi saputo prima sarebbe stato diverso è chiaro immagino un buddha quanto non dovrebbe sentirsi in colpa dopo tutti quei secoli e secoli e secoli e centinaia di vite migliaia di vite affare stupidate un giorno capisce tutto e dice guarda me se avessi capito prima invece abbiamo l'ignoranza sì punto rilassiamoci nel senso facciamo il nostro meglio per migliorare ogni giorno ma senza avere il senso di colpa sulla base di quello invece che bello che posso imparare che posso cambiare ok il terzo punto che volevo condividere e quindi solo per concludere questo secondo è aprire il nostro cuore è qualcosa che innanzitutto noi stessi abbiamo benefici ok un altro limite che noi abbiamo che mi ho dimenticato prima è il limite di poter farlo noi stessi e non poter fare qualcosa nell'altro io posso aprire il mio cuore a te ma posso assicurarmi che tu apri il tuo cuore a me io posso agire in un certo modo ma posso assicurarmi che tu agisci in quello modo che voglio io fin dove posso arrivare io me stesso ok quindi questa è una cosa che una delle cose che per me è molto importante a livello molto personale in generale è che sempre che c'è una difficoltà e nella vita ci sono difficoltà con le persone con il lavoro con le situazioni varie eccetera eccetera io cerco sempre di vedere la situazione e pormi le domande dal punto di vista di che cosa posso fare con le risorse che possiedo perché starsi a lamentare di qualcosa sul quale non posso far nulla cosa porta prendendo un esempio qualunque io sento spesso la gente lamentandosi della politica dei politici sia in Italia sia in Brasile cambia poco sono due paesi molto simili in questo senso veramente in tanti aspetti Brasile e Italia sono estremamente simili non so per quale ragione sia se è perché abbiamo avuto tanti migranti italiani in Brasile se è perché abbiamo siamo due culture latine non so il perché quale sia la ragione del perché del come comunque il fatto è che siamo estremamente simili ai nostri politici anche in tanti aspetti ok comunque il fatto è questo se io mi sto a lamentare di una realtà per esempio politica ok possiamo passare delle ore cambia qualcosa tra me e te siamo lì a parlare che cosa cambia aumenta la nostra versione quello invece cosa vado ok c'è questa cosa che non va io con le risorse che io possiedo qua piccolino cosa posso fare per esempio una cosa che io credo solo approfittando di questo gancio il macro è un risultato del micro spesso quando ci si lamenta di un certo tipo di attitudine comportamento eccetera che esiste nel macro in questo caso per esempio nel governo spesso quella stessa attitudine si ritrova anche nel micro nel modo di vivere dell'individuo nella società se io cambio il mio comportamento io sto facendo una piccola parte perché ci sia un cambiamento anche a modo più ampio se io continuo ad agire in un modo che io stesso condano non faccio altro che aumentare quello perciò quello che accade è chiedermi davanti a una cosa che non mi va eccetera perché questa persona non può fare così quella persona non deve fare cosa io posso avere una visione molto chiara di quello che gli altri dovrebbero fare serve qualcosa dal punto di vista per farlo cambiare posso farlo cambiare io posso cosa interagire parlare fare le mie proprie scelte ma la domanda è io cosa posso fare io con le risorse che io possiedo cosa posso fare per migliorare la situazione per affrontarla in un modo diverso da parte mia cosa posso fare perché quando noi ci lamentiamo e soffriamo poi perché non è la lamentella in se stessa è la sofferenza perché succede che uno soffre perché le cose sono in un modo come uno non accetta e che desidera che fosse che desiderava che fosse in un modo diverso e soffre per questo sia a livello familiare che a livello lavorativo che a livello nazionale governativo quel che sia una delle cose che accade e secondo me abbiamo tanti attaccamenti nella vita di ogni genere però dal mio punto di vista uno dei peggiori attaccamenti che abbiamo una delle principali cause di sofferenza come attaccamento è l'attaccamento alla realtà secondo il modo come noi stessi la vediamo è l'attaccamento al futuro come noi ci aspettiamo che debba essere quindi io ho una mia visione di mondo molto individuale riguardo te riguardo te riguardo questo riguardo quello quando il futuro diventa presente e il presente non è come io mi aspettavo cosa succede? sto male quindi una delle cose importanti dal mio punto di vista è quello che viene chiamata per me l'umiltà dinanzi l'interdipendenza dire ok io ho la mia visione di come vorrei che fossi ma dopo il fatto che io vorrei che qualcosa fosse in un modo vuol dire che quello deve avvenire in quel modo? Tecnicamente? No Quanti sono le variabili per che qualcosa avvenga in un certo modo? Troppe No? Questo momento che siamo oggi qui che è l'esempio che faccio sempre Quante sono le cause e condizioni necessarie perché questo momento esiste così com'è? Quante cose sono dovute succedere? Infinite e quante sono state quelle cose che bastava quella piccola cosettina diversa perché questo momento non ci fosse qui? Così com'è? Tantissime perciò perciò io posso immaginare ma non posso aggrapparmi a un futuro a come secondo me l'altro dovrebbe essere o la realtà dovrebbe essere perché questo genera troppa sofferenza non per altro questo per tutti noi in ogni tipo di situazione quindi certe volte rilassarsi un po' dall'attaccamento che abbiamo per la realtà che deve essere così o cosa e accettare che viviamo in un mondo che è interdipendente che le cose avvengono per infinite cause condizioni che si vanno a intrecciare quello che alcuni chiamano la legge del caos è ciò che fa che le cose siano come sono e io faccio il mio meglio affinché le cose vadano nella direzione che io desidero alcune cose andranno altre cose non andranno normale ok perciò anche quando noi con amore diamo il nostro meglio facciamo il meglio il miglior modo è amare l'altro facendo il meglio perché lui sia felice senza l'attaccamento al risultato di come secondo noi debba avvenire ok perché questo è un altro limite che abbiamo io per esempio con l'amagance per me questo è molto chiaro l'impo c'è quando ama qualcuno può aspettare trent'anni perché la persona capisca qualcosa sta lì e dice ah in questo momento non sei pronto per capire fa niente continua lì va bene te lo dico poi non te lo dico trovo un altro modo per cercare di farti capire quella cosa eccetera eccetera poi un giorno dopo di vent'anni io conosco l'amagance io adesso ho trent'anni non sono ancora arrivati trent'anni da quello che lo conosco ma sono ventisette in questi ventisette anni per dire ne ho visti di cose e c'erano tante cose qui in un certo momento sì una persona che poi dopo passano vent'anni e tu finalmente ah ho capito quello che intendeva dire e si è mantenuto lì e piano piano e con pazienza e con amore perché io ho visto questo imparato nella pratica corrimpoce con l'amagance lui ci ama rispettando ciò che siamo accettando noi con i nostri veleni mentali e con tutto quello che siamo e senza di incolparci di qualcosa che non sappiamo di qualcosa che siamo in un modo piuttosto che in un altro e lui sta bene in questo perché accetta e accettare non vuol dire rassegnarsi accettare vuol dire mettere l'energia nella soluzione e non rimanere intrappolati nei problemi se c'è una persona che avvicina a me e io vedo che c'è un'attitudine un aspetto che a me secondo me non mi piace e secondo me non fa bene neanche la persona stessa accettare quel difetto della persona non vuol dire rassegnarmi vuol dire mettere l'energia per aiutarla a superare quel difetto e non rimanere fisso con la mente nel difetto stesso ok il terzo punto che volevo portare che voi sto un po' attento che questi argomenti possiamo entrare e stare delle ore intorno il terzo punto che volevo portare oggi è un qualcosa che e che questo può essere affrontato in un modo molto esteso però andiamo proprio sull'essenza certe volte mi sembra che viviamo un conflitto tra aver capito qualcosa e rimanere frustrati che non è cambiato nulla ossia ho capito che devo rispettare questo limite che non posso questo quello quello l'altro ma continuo a fare quelle stesse cose ho capito che non mi devo arrabbiare però mi arrabbio ancora ho capito che non devo fare questo ho capito che devo fare quell'altro però non lo faccio capire non è abbastanza esiste una teoria un modo di vedere dentro la psicologia dal mio punto di vista abbastanza sbagliato che parla dello sviluppo dell'essere umano che è già un po' vecchiotto già questo punto di vista ci sono tanti nella psicologia ci sono tanti altri punti di vista che l'hanno superato di gran lunga però esiste questo punto di vista in cui parla che l'essere umano ha una caratteristica particolare perché nel nostro proprio cervello c'è la parte cognitiva che è molto ben sviluppata è la parte emotiva che è più piccola ossia quello che succede che riguardo altri animali per esempio ci sono altri animali che la parte cognitiva è molto piccola e la parte istintiva emotiva è molto più forte quindi hanno reazioni istintive noi abbiamo una reazione anche cognitiva che possiamo ragionare sulle cose eccetera eccetera e c'è chi vede che lo sviluppo dell'essere umano è abbandonare la parte istintiva emotiva e sviluppare solo la parte cognitiva io personalmente non lo vedo così quello che dicevo che secondo me è una visione sbagliata la parte cognitiva ha una sola funzione dal mio punto di vista una sola magari sto diminuendo sto semplificando troppo però ha un'importante funzione che è quella di aiutarci a sviluppare nel modo giusto la parte emotiva istintiva ossia ci sono delle cose che noi concettualmente riusciamo a capire però istintivamente no perché la nostra mente istintiva emotiva ha bisogno di più tempo è una parte che si basa sulla familiarità però ha bisogno di tempo per elaborare per capire per cambiare eccetera eccetera e ha bisogno anche di esperienze perché emotivamente a livello istintivo noi non parliamo con le parole parliamo con le esperienze perciò quando c'è qualcosa che noi capiamo però non riusciamo a sentirlo non riusciamo a metterlo in pratica non riusciamo a vivere ciò che noi abbiamo capito non dobbiamo frustrarci dobbiamo semplicemente capire che abbiamo fatto il primo passo quello di capire dopo aver capito dobbiamo familiarizzarci con quello nel buddismo viene chiamato Thö Sam Gomsom in tibetano che vuol dire il percorso di ascoltare comprendere e meditare qualunque cosa per dire abbiamo parlato oggi prima dell'amore riusciamo tutti a amare tutti in un modo incondizionale abbiamo il nostro cuore perfettamente aperto a tutti quelli che vediamo no siamo esseri infantili egoisti codardi che abbiamo paura di soffrire perciò soffriamo di più per la paura di soffrire che per la sofferenza stessa siamo esseri complessi in questo senso in realtà molto semplici però abbiamo le nostre problematiche ok però possiamo cambiare quello che succede che cos'è non abbiamo un amore perfettamente sviluppato però riusciamo a capire il quanto sarebbe bello avere un cuore aperto che non entra in conflitto che sa rispettare i propri limiti che sa rispettare i limiti dell'altro eccetera eccetera è bello no come concettualmente riusciamo a capire di più a questo punto cosa va fatto dobbiamo familiarizzarci come facciamo a far questo adesso spiegherò una tecnica esistono tanti metodi che possono essere usati però quello che è uno dei metodi che secondo me è uno dei più efficaci sono tanti molto efficaci però questo è uno che a me piace molto ed è semplice da capire da fare la nostra mente funziona sulla base dell'esperienza e non sulla base del concetto quindi cosa succede quando io mi trovo dinanzi a una situazione la reazione che io avrò si basa sulle situazioni che ho vissuto in passato non sulle cose che ho capito quindi come faccio ad avere una reazione diversa di quella che sono abituato devo indurmi a una situazione e una reazione diversa ok per fortuna nostra il cervello non fa molta distinzione tra quello che noi sperimentiamo a livello diretto fisicamente tramite i nostri sensi e ciò che noi sperimentiamo in visualizzazione ciò che noi immaginiamo profondamente quindi quando immaginiamo qualcosa per noi per il cervello è come se quello stesse avvenendo quasi sono tante ricerche su questo per questo che quando una persona ha un problema di salute deve visualizzare che ne so quando ha avuto un ictus qualcosa che non riesce a muoversi deve visualizzare il movimento più volte piuttosto che prendiamo gli atleti che prima di fare il salto devono stare lì a visualizzare il salto eccetera eccetera tutto questo aiuta molto dopo a riuscire a fare queste cose perché per il nostro cervello visualizzare e fare effettivamente cambia poco perciò cosa si fa prima si segue tutto il percorso concettuale in un momento protetto rilassato dove siamo lontano dagli oggetti di avversione di desiderio di quel che sia momento in cui siamo protetti stiamo bene a quel punto rilassiamoci un po' facciamo tutto il percorso logico del perché è buono avere quell'attitudine o perché non va bene avere quell'altro tipo di attitudine che sia la rabbia la gelosia l'invidia quel che sia ok riflettiamo su tutto quello finché intellettualmente sia chiaro a quel punto prendiamo tutta quella conclusione intellettuale che siamo riusciti ad arrivare e la teniamo da parte in un angolino della nostra mente senza dare molta importanza però pronta lì da parte e cominciamo a immaginare una situazione nella quale di solito avremo quella reazione negativa che secondo noi non dovremo avere immaginiamo la situazione però dobbiamo viverla nell'immaginazione quindi stiamo lì immaginiamo che quella persona viene che ci dice questo che succede quell'altro quel che sia immaginiamo veramente e lasciamo che quel sentimento negativo che è la nostra reazione naturale a quella situazione cominci a sorgere che sia la rabbia che sia l'invidia che sia la gelosia quel che sia la paura lasciamo che quel sentimento cominci a sorgere quando sentiamo che sta cominciando a sorgere quel sentimento cosa facciamo prendiamo tutta quella parte della mente che ha fatto tutta la riflessione prima l'analisi del perché quell'attitudine non va bene eccetera eccetera la prendiamo e diamo spazio a quella parte della nostra mente che va a confrontare quell'emozione che sta sorgendo in quel momento quindi dice non devo reagire così per questa quella 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 ragione questo non va bene perché i risultati che porta sono questi e faccio un dialogo interiore finché riesco a dinanzi a quella stessa oggetta in visualizzazione avere un'attitudine diversa e vado a generare una reazione positiva tutto questo in visualizzazione le prime volte non riusciremo verrà fuori l'emozione finiamo che invece di star meglio finiamo peggio va bene seconda volta probabilmente anche la terza volta un po' neutro la quarta volta un pochettino meglio piano piano riusciamo a fare questo quando noi riusciamo in visualizzazione a avere un'attitudine positiva questo gradualmente ci porta a vivere quello in un modo reale gradualmente ci fa cambiare la nostra attitudine noi stiamo addestrando la nostra mente a un livello più profondo in altre parole l'antidoto si deve applicare lì dove si trova il veleno il veleno dove si trova a livello concettuale o a livello più istintivo emotivo istintivo emotivo e lì dove si trova perciò dove devo applicare l'antidoto a quel livello lì per questo che nella meditazione immaginiamo la situazione riportiamoci all'interno di quella situazione e applichiamo l'antidoto in quello stato in questo modo gradualmente facciamo il cambiamento perciò il cambiamento delle nostre abitudini delle nostre attitudini dei nostri condizionamenti avviene tramite un processo di creazione di nuovi condizionamenti positivi e come anche c'è un processo di autoindursi a sentimenti positivi autoindursi a sentimenti di amore di compassione eccetera eccetera in questo modo piano piano riusciamo a fare un cambiamento ricordarci che ci vuole del tempo non è da un giorno all'altro se ci fosse no la società in cui viviamo una volta una persona mi disse era un un professore un astrologo e lui mi disse ah nei giorni d'oggi se ci fosse la pirula per l'illuminazione tutti andrebbero e comprerebbero già un pacco enorme in realtà basterebbe uno però uno vale già compra tante però non esiste quello che c'è è un passettino dopo l'altro e la meditazione serve proprio per questo che dobbiamo piano piano generare quei sentimenti profondamente avere un'attitudine opposta a un livello profondo e con questo stiamo insegnando a noi stessi che è possibile agire in un modo diverso se io riesco a reagire diversamente in visualizzazione la prossima volta che mi troverò davanti alla situazione avrò questa memoria e posso quindi reagire in un modo diverso spontaneamente però non basta una volta è un processo che vuole tante qualcuno può dire ma è faticoso sì ma non è piacevole meditare su questo è vero e chi ha detto che meditare deve essere per forza piacevole meditare non è rilassamento uno si rilassa meditando sì è bello meditare stupendo però non è detto che la meditazione necessariamente sia un momento di rilassamento perché è un rilassamento perché uno deve essere presente nel momento presente si rilassa tutto ma quando ci guardiamo negli occhi con le nostre proprie emozioni distruttive non è piacevole necessariamente però è molto piacevole il risultato che abbiamo qui nel tempo ok quindi questo percorso che una volta che abbiamo compreso qualcosa intellettualmente che è molto importante lo dobbiamo gradualmente riportare verso il nostro cuore verso i nostri sentimenti in uno stato spontaneo non concettuale ok e questo si fa creando questi momenti vivendo una volta due volte tre volte tante volte queste situazioni che ci dobbiamo indurre a questi stati ok questo era più o meno tutto quello che volevo condividere oggi adesso facciamo la pratica dell'autoguarigione per questa ragione ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta però non tesa grazie 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 le spalle rilassate il colo rilassato con la testa leggermente avanti la bocca rilassata gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso la consapevolezza sul respiro osserviamo l'aria che entra e l'aria che esce lasciamo gradualmente che il respiro si torni più profondo portando l'aria fino a sotto l'ombelico con una respirazione addominale in spiro 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 visualizziamo che abbiamo un corpo di luce con un canale centrale due canali laterali nello spazio davanti a noi c'è Guru Buddha la personificazione di tutti gli esseri sacri Guru Buddha ci sorride nei suoi cinque chakra al capo, gola, cuore, umbilico e chakra segreto si trovano i cinque Diani Buddha i cinque guaritori supremi dai cinque chakra di Guru Buddha si emanano raggi di luce di color bianco, rosso, blu, giallo e verde che si assorbono nei nostri rispettivi chakra purificando le nostre negatività rivitalizzando le nostre qualità portandoci le benedizioni di corpo, parola, mente qualità e azione che si assorbono nei nostri rispettivi che si assorbono nei nostri rispettivi parche, palden, la, me, shabla, sol, vade Oma Guru Vajradhara Sumatimuni Shasana Karma Uta Vardhanya Shri Bhadra Varsamaya Sarva Siddhi Hum Oma Guru Budha Siddhi Hum Oma Guru Budha Siddhi Hum Oma Guru Budha Siddhi Hum Purificazione dei cinque elementi nei nostri cinque chakra Purifichiamo l'elemento spazio al chakra del capo dando la possibilità agli altri elementi di purificarsi Purifichiamo il vento al chakra segreto il vento soffia purificando il fuoco all'ombelico il fuoco cresce purificando la terra al cuore la terra si scalda purificando l'acqua alla gola l'acqua si evapora andando verso il capo dove si condensa e scende per tutto il corpo come una pioggia di nettare purificando il corpo e la mente eiyamramlambam E YAM RAM LAM BAM E YAM RAM LAM BAM SHUDE SHUDE SOHA 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 EH HO SHUDE SHUDE SOHA YAM HO SHUDE SHUDE SOHA RAM HO SHUDE SHUDE SOHA Lamo Shudeh Shudeh Soha Bamo Shudeh Shudeh Soha Eya Bamo Shudeh Shudeh Soha Oma Shudeh Shudeh Sarva Dharma Shudeh Shudeh L'intero universo si dissolve in luce. Il luogo in cui ci troviamo si dissolve in luce. Il nostro corpo si dissolve in luce. La nostra mente si dissolve in luce con i nostri pensieri, aspettative, memorie, emozioni. La nostra mente si dissolve in luce. Non c'è altro che un infinito vuoto luminoso Che a sua volta è vuoto di esistenza intrinseco Inseparabile da una profonda beatitudine e da una grande gioia E noi stessi siamo l'unione della beatitudine e della vacuità Dall'unione di beatitudine e della vacuità Sorge l'universo. In esse, noi stessi sorgiamo con un corpo puro Un corpo di luce Nella forma di Vajra Satva Un essere di cristallo Abbiamo un canale centrale e due canali laterali Cinque principali punti di energia In ognuno dei nostri chakra Sorge un fior di lotto Verde al chakra segreto Giallo all'ombelico Blu al cuore Rosso alla gola E bianco al capo PAM LE PEMA JANGU PAM LE PEMA SERPO PAM LE PEMA NGOM PO PAM LE PEMA MARPO PAM LE PEMA MARPO Nei fior di lotto sorgono le sillabe semi L'essenza dell'energia dei cinque guaritori supremi PAM LE PEMA PAM LE PEMA PAM LE PEMA PAM LE PEMA Le sillabe semi si trasformano nei simboli dei cinque guaritori supremi Al chakra segreto Al chakra segreto sorge un doppio vajra verde segnato dalla sillaba ri All'ombelico un gioiello giallo segnato dalla tram Al cuore un vajra blu segnato dalla hum Dalla gola un fiore di lotto rosso segnato dalla A E al capo sorge una ruota del dharma bianca segnata dalla hum PAM LE PEMA 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 I simboli si trasformano nei cinque guaritori supremi PAM LE PEMA Al chakra del capo sorge il supremo guaritore Guru Buddha Vahirojana Di color bianca con il mudra della saggezza Alla gola sorge il supremo guaritore Guru Buddha Amitabha Di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa Al cuore sorge il supremo guaritore Guru Buddha Akshobhya Di color blu con il mudra della stabilità All'ombelico sorge il supremo guaritore Guru Buddha Ratna Sambhava Di color giallo con il mudra della suprema generosità E al chakra segreto sorge il supremo guaritore Guru Buddha Amogha Siddhi Di color verde con il mudra della non paura OM KOR LONAN SE DORCE APE MA CHE DORCE HUN DORCE MICHIU DORCE TRANOR BU RIN CHEUN DORCE RINATSO DORCE TO YUN DORCE LAMATYUN DORCE KIN LAMATYUN DORCE KIN Al chakra segreto, con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amogasidi, di color verde con il mudra della non paura, purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto. In particolare, purifichiamo tutte le paure, l'invidia, la gelosia e tutte le malattie relazionate al chakra segreto, li purifichiamo nella forma di uccelli, garuda, verdi scuri, fumo nero ed esporcizio. Riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Amogasidi, nella forma di luce e nettare verde, che riempie il nostro corpo e ci porta il potere di realizzazione, il rigioire, la gioia per la felicità delle altre, la saggezza che tutto compie, la certezza in ogni azione, lo stato puro dell'aggregato dei fattori composizionali, lo stato puro della nostra personalità. OMA MOGASIDI HUM 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 materiale, spirituale e tutte le malattie relazionate al chakra dell'ombelico li purifichiamo nella forma di cavalli giari scuri, fumo nero ed esporcizi riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Ratna Sambhava nella forma di luce e netta reggialo che riempie il nostro corpo e ci porta l'umiltà la generosità di dare materialmente di dare amore di dare protezione di dare il Dharma il sentiero spirituale la saggezza dell'equanimità e l'aggregato puro delle sensazioni O Maratna Sambhavahum 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 con le benedizioni con le benedizioni del supremo guaritore Gurubudak Shobhi di color blu con il mudro della stabilità purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del cuore in particolare purifichiamo la rabbia l'odio il rancore il nervosismo l'impazienza l'ansia la tristezza l'instabilità interiore la depressione e tutte le malattie relazionate al chakra del cuore li purifichiamo nella forma di serpenti blu scuri fumo nero e di sporcizia riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Gurubudak Shobhi nella forma di luce in ettare blu che riempie il nostro corpo e ci porta l'amore la compassione la pazienza la stabilità interiore la gioia spontanea l'aggregato puro della coscienza e la saggezza del dharmadatto la nostra mente nel suo stato puro oma akshobhya humm 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 l'amacchodorjaken al chakra della gola con le benedizioni del supremo guaritore guru buddha amitabha di color rosso con il mudra della concentrazione meditativa purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra della gola in particolar modo purifichiamo l'attaccamento illimitato il desiderio illimitato l'insoddisfazione la mancanza di concentrazione la parola violenta e tutte le malattie relazionate al chakra della gola li purifichiamo nella forma di galine rosse scure fumo nero ed esporcizia riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore guru buddha amitabha nella forma di luce e nettare rosso che riempie il nostro corpo e ci porta la soddisfazione la concentrazione la parola sacra il puro aggregato e la saggezza del discernimento om amitabha om amitabha om amitabha om amitabha l'amananze d'orge kyen l'amananze d'orge kyen al chakra del capo con le benedizioni del supremo guaritore guru buddha veiro chana di color bianco con il mudra della saggezza purifichiamo purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del capo in particolare purifichiamo la ignoranza la chiusura mentale la mancanza di spazio interiore la visione erronea di se stessi la visione erronea della realtà e tutte le malattie relazionate al chakra del capo li purifichiamo nella forma di maiali neri fumo nero ed esporcizi riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore guru buddha veiro chana nella forma di luce e nettare bianco che riempie il nostro corpo e ci porta la saggezza l'infinito spazio interiore la corretta visione della realtà la saggezza chiara come uno specchio la capacità di percepire ogni fenomeno che esiste intorno a noi e l'aggregato puro della forma il corpo in uno stato puro oma veiro chana ho 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 in un istante sorgiamo nella forma di Vajra Dara un essere puro con il mudra dell'abbraccio rappresentando la perfetta unione di metodo e saggezza di beatitudine e vacuità di amore compassione e saggezza rappresentando aver sviluppato completamente le proprie qualità e aver eliminato i propri veleni mentali in questo stato non ci sono più nemici metodo per sviluppare ed equilibrare l'energia maschile del metodo e l'energia femminile della saggezza visualizziamo l'energia maschile del metodo nella forma della bodhicitta bianca l'energia bianca che scende dal capo fino al chakra segreto sperimentiamo l'unione di beatitudine e vacuità poi l'energia femminile sale dal chakra segreto fino al chakra del capo nella forma della bodhicitta rossa un'energia rossa sperimentiamo l'unione di beatitudine e vacuità dopo le due energie si uniscono al capo alla gola al chakra segreto all'ombelico e alla fine si uniscono al cuore dove tutta l'energia accumulata finora si assorbe mentre sperimentiamo l'unione di beatitudine e vacuità o mani pe me hum 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 Om Mahasukhahum 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 Ame. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioieli conoscere. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. Grazie. In questo modo concludiamo per oggi la parte dell'autoguarigione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.